Un tettoro addobbato da decine di lanterne e un vero villaggio incantato che rende l'atmosfera unica e coinvolgente. È il centro storico di Fossombrone che ha alzato il sipario sul magico Natale. L'evento che in corso Garibaldi ospita due boschi degli Elfi, un luogo fantastico in cui incontrare un albero parlante che racconta favole, fiabe e storie e nel quale far visita alla casetta di Babbo Natale. I migliaia domenica scorsa hanno riempito il centro storico e assistito all'accensione dell'albero con musiche, danze e le magiche nevicate. Un evento fondamentale Roberto anche per far rivivere tutto il centro storico. Sicuramente sarà un mese intenso e spettacolare. Siamo nel fulcro della manifestazione con questo bellissimo albero di 2700 luci e queste 250 lanterne personalizzate fatte proprio per noi, con questi 60 negozi storici dove ognuno offre un qualcosa di particolare e sicuramente di qualità e sempre, come dicevo, un occhio al prezzo. Da quest'anno siamo veramente soddisfatti, un evento che ogni anno sta crescendo. C'è a dire che Fossombrone è stata un po' la prima nel credere in questo tipo di effetti speciali e a sentire il Natale così in modo veramente forte, romantico, spirituale e chi più ne metta. Quest'anno come novità abbiamo inserito un secondo bosco degli Elfi a Portafano e un impegno veramente importante sia da parte degli organizzatori ma anche dei commercianti che veramente sostengono fortemente questa manifestazione. Come avete visto ci troviamo in un bellissimo corso con un cielo stellato, più di 250 lanterne, credo 50-60 alberi a fusto alto e tantissime tantissime presenze. Quest'anno è veramente pieno, pieno di persone. Quindi ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti, la gente sta continuando ad arrivare e quindi buon Natale! Grazie! 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 Grazie!